Sei un installatore termoidraulico e vuoi specializzarti nell'installazione delle pompe di calore? Beh allora questo video fa per te! Infatti ho pensato di fare una masterclass gratuita solo per gli installatori che si vogliono specializzare nell'installazione delle pompe di calore su edifici esistenti, sia che ci sia impianto al pavimento oppure a radiatori. Ho pensato quindi di condividere con te 75 minuti di formazione proprio legati all'installazione delle pompe di calore. A qui seguiranno altri tre step, se lo vorrai, in cui andremo a definire in maniera dettagliata quello che c'è da fare e andremo a rispondere anche alle tue specifiche domande. Infatti ci sarà proprio un momento di condivisione a tu per tu per affrontare proprio tutte le domande, i dubbi, i temi legati al mondo delle pompe di calore. Ma perché ho deciso di fare questa masterclass per gli installatori? Beh perché troppo spesso mi sento dire che ah no, davanti ad un impianto a radiatori lascio stare la pompa di calore perché per il sentito dire le pompe di calore funzionano solo su impianti a pavimento. Piuttosto che gli installatori sono sempre lì con le ditte incrociate dopo aver fatto l'installazione perché non sanno quanto consumerà la pompa di calore e quindi se il cliente effettivamente consumerà meno rispetto a prima perché nessuno li supporta in questo percorso. Oppure perché se la pompa di calore non scalda abbastanza o consuma troppo rispetto alle previsioni che magari non c'erano neanche la colpa è sempre dell'installatore perché il progettista ha fatto quello che doveva fare il centro assistenza è uscito e dice che è tutto a posto e alla fine il cliente se la prende sempre e solo con chi gliel'ha installato. E poi ci sono tante altre motivazioni che troverai nel link qui sotto. Quindi per riuscire a trasformare effettivamente le case in 100% elettriche quindi ridurre i consumi e eliminare le bollette del gas ho deciso di fare questa masterclass per aiutare gli installatori in questo percorso con passi sicuri e con persone che possono camminare a loro fianco supportandoli in tutte le loro esigenze. Quindi se anche tu sei un installatore e vuoi diventare esperto nelle pompe di calore essere più sicuro in quello che fai, nel lavoro che fai tutti i giorni allora iscriviti alla mia masterclass di cui trovi il link qui sotto. Grazie a tutti!